Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Gemma Galgani, la triste notizia è appena arrivata. Gemma Galgani ha recentemente terminato una relazione intensa con il gabbiano e ora vede Pietro, sperando in un futuro sereno. Tuttavia, è stata colpita da una notizia dolorosa, non legata a delusioni amorose ma a un lutto personale. I suoi fan sono stati molto vicini, mostrando supporto attraverso numerosi commenti di affetto e solidarietà. Gemma ha condiviso su social media la scomparsa di Clemente, scrivendo un post commovente sul loro legame e l'isola di Favignana. Clemente Ventrone, storico tonnaroto dell'isola di Favignana, è morto improvvisamente all'età di 79 anni. Gemma, profondamente legata all'isola, visita spesso quel luogo che ora piange la perdita di una figura emblematica come Clemente. Questo evento ha creato una grande tristezza non solo in Gemma ma anche nella comunità dell'isola e tra coloro che conoscevano Clemente. Le reazioni al post di Gemma mostrano quanto i suoi follower apprezzino la sua sensibilità e empatia. Se volete lasciare un messaggio di cordoglio fatelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime notizie. Ciao!